Il Comune di Taranto si affida a società e cooperative per salvaguardare le piazze della città e gli spazi pubblici. Ha emanato un avviso con il quale manifesta la volontà di avvalersi della collaborazione gratuita di associazioni e organizzazioni di volontariato formalmente costituite per la cura dei luoghi pubblici. L'iniziativa rientra nel più ampio quadro della valorizzazione della città e del rispetto del decoro cittadino. Le proposte dovranno contenere i progetti di utilizzazione della piazza tesi alla cura del verde e dell'arredo urbano, alla valorizzazione e alla salvaguardia ambientale, alla promozione culturale e alla organizzazione di attività recreative e ludico-istruttive. Ovviamente è escluso l'uso privato ed esclusivo dello spazio che è di tutti. La durata della collaborazione è di un anno.